Musica e teatro nel cortile del maschio Angioino per uno spettacolo singolare a sostegno dell'Istituto Italiano per gli studi filosofici, la prestigiosa accademia culturale presieduta da Gerardo Marotta. Un fiore all'occhiello per la nostra bella Napoli, se ne dovrebbero fare di più. Quando mi hanno detto grazie signora per partecipare, ho detto no, se mi consentite sono io che ringrazio voi, che mi date questa bella possibilità di partecipare a un evento così importante per la nostra città. Di Gerardo Marotta e dell'Istituto Filosofico, credo tutti se non sanno è vergognoso che non sanno, quindi fate finta di saperlo, fate così con la testa. È un'eccellenza non solo italiana ma riconosciuta nel mondo, ha avuto riconoscimenti dai reali di Olanda, da tutto il mondo. L'UNESCO lo riconosce come una fondazione di grandissimo valore culturale, ha dato moltissimo in questi anni a una biblioteca di 300.000 volumi che vergognosamente sono itineranti. Invece di essere a disposizione del pubblico stanno chiusi nei camioncini e vanno avanti e indietro. Gli artisti che hanno risposto all'appello del Comune di Napoli si sono esibiti gratuitamente. L'intero incasso è stato così devoluto all'Istituto che versa in condizioni di difficoltà materiale e da tempo attende risorse da parte dello Stato. Stasera parlerà a mio figlio Massimiliano che è il vicepresidente dell'Istituto e che ha dato tutto quello che avevamo, quello che era ristituato, i nostri beni per l'Istituto. E quindi ha voluto sacrificare la sua vita, dedicare la sua vita per questo Istituto. L'iniziativa rientra nel programma dell'estate a Napoli, ispirata quest'anno al motto Napoletani per Costituzione, che celebra i valori fondamentali della Carta Costituzionale. La battaglia per l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è innanzitutto una responsabilità dei cittadini e delle istituzioni di Napoli. Ma è una grande questione nazionale, anzi direi una grande questione europea, perché l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è stato, nel corso di questi decenni, uno dei luoghi più alti di produzione culturale, di conoscenza, di sapere, direi proprio di verità, che ha contribuito a mantenere alti i grandi valori dell'umanesimo. E ci rendiamo conto, e forse per questo l'Istituto è spesso perseguitato dall'indifferenza, ci rendiamo conto come questo sia stato importante, e spesso però osteggiato, perché in questo mondo in cui i mostri dell'egoismo e dell'avidità l'hanno avuta vinta su ogni altra dimensione dell'umano, ecco hanno trovato nell'Istituto un combattente tenace per i più alti valori, che sono poi i valori scolpiti nella nostra Costituzione e che fanno parte del grande patrimonio della dignità dell'uomo in ogni latitudine, in ogni lungitudine. Fra i contributi della serata anche il Marottino, un dolce realizzato da un celebre caffè cittadino in onore dell'Avvocato Marotta.